benvenuti a e tu cosa fai idee e storie di sostenibilità nella rubrica una parola in un minuto oggi il professor zamani ci parla di rischio la società del rischio è uno dei concetti che si deve al lavoro dell'ultimo ulrich beck un grande sociologo tedesco scomparso pochi anni fa il suo libro più importante è appunto a per titolo la società del rischio qual è il punto che in quel libro e nel dibattito successivo dominato e cioè la distinzione tra il concetto di rischio e il concetto di incertezza noi tendiamo ad accumularne ma sbagliamo perché sono diversi e la differenza è questa che il rischio può essere calcolato e ho previsto l'incertezza invece no allora è evidente che mentre fino ad oggi si è cercato di dedicare risorse intellettuali e di altro tipo per affrontare le situazioni di rischi di rischio non sempre con successo pensiamo il rischio dei terremoti noi sappiamo che la scienza delle scienze della terra sono in grado di prevedere con un discreto margine di accuratezza la evenienza di terremoti la stessa cosa vale per fenomeni quali lo tsunami e via discorrendo in altre parole mentre nei confronti del rischio è possibile che la società purché lo voglia predisponga gli strumenti conoscitivi di intervento per far fronte alle emergenze nei confronti dell'incertezza non c'è niente da fare perché l'incertezza ha a che vedere con fenomeni emergenti cioè che per definizione non possono essere previsti non possono essere quindi fatti oggetto di calcolo un grande economista come Keynes l'aveva chiarito ma non venne capito tant'è vero che molti poi interpretarono l'uncertainty che vuol dire incertezza come una forma particolare di rischio la fondazione Mario del Monte ha presentato nei giorni scorsi una ricerca sulla sostenibilità ambientale dei modenesi vediamo cosa è emerso qual è la sensibilità ambientale dei modenesi e quanto incide sui comportamenti quotidiani da questi interrogativi ha preso avvio l'indagine condotta dall'osservatorio via emilia della fondazione Mario del Monte la risposta dalla voce del sociologo vittorio Martinelli curatore della ricerca viene fuori un primo dato la sensibilità ambientale è aumentata in questi anni non c'è dubbio il fatto che tutti avvertano il cambiamento climatico è una cosa che ormai si tocca con mano implica anche che l'attenzione all'ambiente sia appunto cresciuta ma e questa era una delle domande della ricerca assieme alla sensibilità aumentata è cresciuta anche la disponibilità a cambiare comportamenti in certa parte in questi anni i comportamenti sono cambiati si pensi anche semplicemente come ognuno di noi nella propria casa famiglia dedica tempo alla raccolta differenziata o scelga i modelli di auto meno inquinanti eccetera però insomma ci sono ancora alcune sacche di resistenza per esempio la disponibilità ad abbandonare l'auto con altri mezzi di trasporto è un po' più difficile la disponibilità a dire premiamo coloro che vanno in bicicletta piuttosto che coloro che vanno in auto è un'opzione generale ma si fa un po' fatica a dare una disponibilità generale però dicono sempre i cittadini modenesi se per esempio la pubblica amministrazione in termini di incentivi sostiene l'efficientamento energetico delle case questa è una buona cosa io sono disponibile a mettermi in gioco e dunque serramenti e dunque i cappotti e dunque i sottotetti eccetera si possono fare cose interessanti dai risultati emerge un doppio atteggiamento individuale e comunitario dal punto di vista individuale la disponibilità a modificare ancora i comportamenti insomma bisogna ancora di convinzione dal punto di vista invece dei comportamenti comunitari e la via Emilia e il centro storico e il luogo della comunità per eccellenza lì allora siamo pronti a fare anche dei cambiamenti radicali Di fronte alla disponibilità dei modenesi a cambiare i propri stili di vita il comune cosa propone? Un modo di agire per essere coerenti e conseguenti a questa disponibilità e quindi l'amministrazione ha deciso di rafforzare le politiche per Agenda 2030 per tenere la testa in Europa per ragionare di sviluppo della nostra comunità per ragionare da un lato verso politiche che siano sempre più nel rispetto dell'ambiente per valorizzare il centro storico per renderlo più fruibile alle persone e soprattutto per cercare di creare una mobilità sempre più sostenibile con gli investimenti che stiamo facendo dalla diagonale fino al potenziamento delle piste ciclabili Mi pare una scelta molto forte, impegnativa dell'amministrazione e in quella direzione dobbiamo anche rafforzare noi stessi il senso di appartenenza alla quotidianità, chi butta le cicche, chi crea problemi deve trovare la coscienza di non farlo perché il rispetto della nostra città è il rispetto di tutti e quindi io invito tutti a usare l'attenzione necessaria per migliorare il proprio approccio e per rendere la collettività più responsabile nell'azione di una sostenibilità che è una sostenibilità che deve essere durevole e che deve assicurare soprattutto il benessere Io voglio candidare Modena per esempio per diventare la capitale della mobilità elettrica perché qui si produrranno presto delle auto elettriche per cercare di creare le condizioni per essere in prima fila nella sfida del futuro Una survey regionale per capire la conoscenza e i progetti delle aziende Emiliano-Romagnoli in tema di SDGs Quanto sono conosciuti gli obiettivi dell'agenda 20 e 30 delle aziende Emiliano-Romagnoli? Ne abbiamo parlato con Walter Sancassiani, titolare di Focus Lab, società di ricerca e consulenza modenese che da vent'anni si occupa di progetti di sostenibilità che ha da poco realizzato una ricerca su questo tema La prima indagine su imprese e filiere dell'Emilia-Romagna per l'agenda 2030 17 obiettivi di sostenibilità dell'ONU è nata dall'esigenza di fotografare lo stato dell'arte di un campione di imprese del territorio regionale per capire come l'agenda 2030 è conosciuta, come è applicata quali sono gli SDGs, gli obiettivi ONU più messi in pratica e quelli invece meno quali sono gli ostacoli e quali sono invece le opportunità Da quest'indagine in sintesi emerge che la gran parte delle imprese coinvolte sono state 75 imprese di 13 filieri diverse fanno un po' su tutti i 17 obiettivi è chiaro che ci sono alcuni obiettivi maggiormente nelle corde delle imprese Quindi i principali goals dell'agenda 2030 sono quelli legati al benessere dei dipendenti all'economia circolare e al tredicesimo che è sui cambiamenti climatici La conoscenza è ancora limitata è maggiore nelle grandi imprese per il 60% e il 40% nelle piccole e medie imprese Tuttavia al di là della conoscenza c'è un po' l'agenda 2030 inconscia molte imprese fanno più di quello che comunicano quindi l'esigenza è quella di far emergere le tante iniziative che ogni impresa fa al di là delle dimensioni del settore farle conoscere meglio al proprio interno e all'esterno verso i vari interlocutori Inizierà una seconda indagine nel 2020 vogliamo allargare il campione di imprese e poi un laboratorio che è appunto dal nome SDG Lab Emilia Romagna che ha l'obiettivo di esplorare mettendo attorno a dei tavoli tematici varie imprese per sviluppare dei progetti in partenariato in maniera specifica su alcuni goals Sempre in tema SDGs Focus Lab sta realizzando un altro progetto con le parrocchie della diocesi di Modena Alla luce della laudatosi dell'enciclica di Papa Francesco di qualche anno fa l'idea è nata dalla necessità di provare a rendere più protagoniste le parrocchie nel passare a delle azioni concrete 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU raccontati con delle video animazioni Oggi vi raccontiamo il goal 15, la vita sulla terra Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie per averci seguito, vi aspettiamo la settimana prossima alla stessa ora sempre su TRC con nuove storie di sostenibilità Per continuare a rimanere aggiornati con le nostre news potete trovarci alla pagina Facebook o sul sito www.etucosafai.it